Tonia Cambursano, consigliera della città metropolitana delegata allo sviluppo economico ma anche sindaco di un piccolo comune. Cosa diciamo ai sindaci che hanno bisogno della banda larga e aspettano che città metropolitana li aiuti? Diciamo che città metropolitana, io come sindaca di un piccolo paese mi rendo conto di quanto sia fondamentale il ruolo di città metropolitana come ente di area vasta per poter creare le reti e le connessioni per promuovere davvero il superamento del digital divide. Noi siamo per lo più comuni piccoli e piccolissimi, abbiamo bisogno del ruolo di città metropolitana per poter continuare a promuovere i nostri territori rendendoli appetibili anche per chi vuole venire ad installarsi e a prosperare nei nostri territori perché l'infrastruttura digitale è fondamentale. Non si può fare senza, non si può più pensare ad uno sviluppo economico distinto dall'infrastruttura digitale.